Eccoci qui, eccoci in diretta con il quarto dei nostri incontri in preparazione al 25 aprile. Oggi parliamo di resistenza in canavese, lo facciamo in modo un po' particolare. Emilio Champagne che oggi ci condurrà in questo incontro, ci spiegherà, noi diciamo sempre che scriviamo una piccola pagina di storia magari che non c'è nei grandi libri. E così faremo oggi con Emilio per finire poi con Diego che è collegato con noi, ormai Diego è la nostra guida virtuale anche oltre che fisica. E quindi che ci guiderà poi il 24 aprile in quella che è la resistenza di massa con un'attualizzazione. Oggi però parliamo di canavese, parliamo di resistenza in canavese, di una resistenza Emilio che comincia prima che cominci poi quella che noi conosciamo come resistenza. Ci sono delle bellissime storie. Ne racconto solo una, per esempio, che dà il significato di cosa voleva dire essere antifascisti. Cioè a Feletto, per esempio, nel 1938-39, la data non me la ricordo, durante una festa di matrimonio l'orchestra suona, poi arriva tardi, si fanno tardi, 10, 11, alle 11 si mettono a cantare Bandiera Rossa. Canteranno Bandiera Rossa 10-12 persone a squarciagora fino alla fine, il giorno dopo vengono arrestati, vengono condannati a molti anni di confino e spediti in Calabria, in un posto sconosciuto. Cioè solo per aver cantato una canzone. Un altro, per esempio, era il sindaco di Muriaglio. Il sindaco Muriaglio, un certo Pietro Zucco, perché Muriaglio all'epoca, prima dell'epoca liberale, era un comune indipendente. E aveva questo sindaco che era socialista, comunista, di sinistra, no? E quando poi durante il fascismo viene attaccato, viene anche fatto bere l'olio di ricino, lo picchiano, eccetera, no? Però lui non si arrende mai, non si arrende mai e ogni primo maggio, insieme a un suo compagno di Silio, il compagno di Silio sale a Muriaglio e vanno alla trattoria e ogni primo maggio festeggiano con un bel pranzo il primo maggio. Che voglio ricordare è che il primo maggio non era una giornata festiva durante il regino, ma era il 21 aprile la giornata del lavoro e il primo maggio invece era stata abolita. Nonostante questo loro ogni anno hanno festeggiato questa cosa, fino a quando poi una giornata, un primo maggio particolare, probabilmente avevano alzato un po' troppo il gomito e anche lui venne arrestato perché l'accusa dice che si mettono a cantare canzoni sovversive a piazza. Ecco, sono queste piccole cose, queste sono piccole cose, ma poi ce n'è altre molto più drammatiche. Perciò bisogna, nella resistenza dobbiamo inserire tutte queste persone, dobbiamo dare un volto soprattutto, una voce a queste persone che nessuno ha mai ricordato, che neanche quelli come me, che insomma sono cresciuti, una generazione come la nostra, che è cresciuta a piazza resistenza, però nessuno gli ha mai raccontato o ha saputo raccontare queste storie. Di tutte queste storie ci sono i presupposti per dare voce e farle conoscere. E' una resistenza, scusa, è una resistenza che è partita prima della guerra, qui non parliamo di guerra. E non è solo una resistenza passiva, è una resistenza attiva, dove la gente ha pagato, ma pagato duramente, naturalmente, con prigioni, con percorse e tutte. Perciò questo non lo ricordare. Poi, un'altra cosa che voglio ricordare, che fa parte sempre della resistenza nostra, che è una resistenza di tipo intellettuale. Di tipo intellettuale. Cioè, nel 1931, il fascismo chiedono ai docenti universitari, per poter esercitare, il giuramento alla fedeltà al regime fascista. Su 1250 docenti, soltanto 12 si rifiutarono di giurare fedeltà. E fra questi 12, ben 3 su 12 erano canavesari. E dobbiamo ricordarli. Erano 3 intellettuali di primo livello. Era Francesco Ruffino ed Edoardo Ruffino. Erano padre e figlio, ma entrambi professori, liberali, persone molto integre e corrette nei loro principi. E quindi si rifiutarono e persero il posto. Non poterono più insegnare, con un grande sacrificio. Noi, invece, in Alto Canavese, abbiamo Piero Martinetti. Piero Martinetti, un altro, che si rifiutò di prestare questo giuramento e venne esautorato dalla cattedra di filosofia che teneva a Milano. Martinetti poi morirà nel 1942 a Castellamonte. Martinetti ha ricordato Castellamonte un po' dappertutto. Però, ecco, poi questi sono quelli noti. Ci saranno altri molto meno importanti che però, con il loro atteggiamento, hanno fatto un atteggiamento contro il fascismo. Questi erano quelli famosi. Poi vi erano una discreta massa di persone semplici che si opposero al fascismo in maniera passiva, indiretta, magari rifiutavano la tessera. Io conosco molti che non hanno voluto prendere la tessera e per quello hanno perso il posto di lavoro. Soprattutto i dipendenti comunali, chi aveva un rapporto con il comune o con lo Stato, non prendere la tessera, voleva già dire autoescluderti. Perciò, anche solo questo piccolo atto, o di non mettere la camicia nera, era già un piccolo atto che era già una resistenza importante. A Castellamonte abbiamo il fatto di uno che non ha messo la camicia nera e non si è tolto il cappello quando passava il corteo fascista ed è stato schiaffeggiato e manganellato per quello. E poi lui se ne è ricordato e nel 1945 è andato a prendere quello che è stato manganellato e gli ha restituito le cose. Ed è stato un po' l'unica violenza, diciamo così, che c'è stato, ma gli è andata ancora bene e altri è andata molto peggio. Ecco, per dire il clima... Sì, questo era già un clima che si respirava prima della guerra all'avvento del fascismo. Quindi noi parliamo di resistenza normalmente fra il 1943 e il 1945. No, no, ma noi ne parliamo per abitudine, ma non è quella solo la resistenza. La resistenza comincia... Non è solo quella e direi anche che qualitativamente io apprezzo molto di più l'altra, perché l'altra era al di fuori di ogni dubbio. Cioè se i partigiani poi sul carro del vincitore sono saliti in tantissimi, no? È sempre stata una scelta durissima fare il partigiano e poi lo vedremo, no? Però, insomma, gli ultimi giorni è chiaro che sono aumentati tantissimi, no? Perché era molto più facile. Ma farlo quando c'era il regime e tutti, la maggioranza del popolo italiano lo seguiva. Perché questo va anche detto, perché il fascismo è stato comunque popolare e sostenuto dalla foglia. Ecco, il fascismo distrugge quei partiti. Durante gli anni del fascismo, dal 20 al 40, praticamente vengono distrutti i partiti storici, no? Il Partito Popolare, il Partito Liberale. Gli stessi cattolici, l'azione cattolica viene vista di cattivo occhio e viene perché fa concorrenza con Ibarina, con la gioventù. E quindi viene annichilita, diciamo, no? L'unico che resiste in forma clandestina è un po' il Partito Comunista, perché aveva una struttura militare e rivoluzionaria un po' che si è adattata al clima. Perciò ha conservato un embrione di organizzazione sul territorio. Quel piccolo embrione che permetteva di fare delle cose eclatanti, ma prive di contenuto pratico e politico. Per esempio, noi abbiamo a Valperga, durante un convegno fascista degli anni, fine anni 20, qualcuno andosta con la luce, tagliò i fili della corrente e rimasero tutti al buio. E naturalmente erano questi, ma non è che però la gente ne parlava e aveva il sentore che c'era comunque qualcuno che non andava. Un altro fatto a Ponte. A Ponte, un primo maggio, si arrampicano sopra a un trariccio della tensione e mettono una bandiera rossa in mezzo ai fili della corrente, in maniera che al mattino tutti si svegliano e vedono questa bandiera, si ricordano del primo maggio, praticamente perché, ripeto, era abolito e si festeggiava al 21 aprile, festa del lavoro, anniversario della Fondazione di Roma, e dovettero staccare la corrente che portava alla grande manifattura e per qualche minuto, per mezz'ora o più, gli operai dovettero fermarsi dal lavoro per poter levare questo trappo rosso che era stato messo. Ecco, sono queste le uniche e, ripeto, molto simboliche manifestazioni che abbiamo durante l'anno. Però sono significative perché, come dicevi tu, intanto sono atti pratici e poi comunque era un segno, è un segno del quale la gente parlava, perché ovviamente quando poi devi smettere di lavorare per mezz'ora ti chiedi perché, quando manca la luce le voci girano. Quindi parliamo di una resistenza che c'era e che sui libri non troviamo, se non per chi come te, come voi di Terra mia fa queste ricerche. Quindi è partita da lì, questo è già un tassello importante. È un tassello importante che spero, al più presto, con l'aiuto dei miei compagni di Terra mia, dal professor Attilio Perotti e di altri, il materiale l'abbiamo tutto, bisogna solo riordinarlo, metterlo lì e pubblicarlo, renderlo fruibile. E sarà veramente una grande novità e un tassello importante che ci aggiungerà alla storia canale sana. Perché comunque il periodo fascista bisogna studiarlo, perché è comunque un periodo storico che va indagato. Ma anche perché come dicevi tu, il periodo fascista ha avuto un momento di grande popolarità, era appoggiato dalla stragrande maggioranza del paese, oggi sono tutti antifascisti, ma non ci dimentichiamo che negli anni 30 il partito fascista dava molto a molti che appoggiavano questa linea. Forse anche stufi di quello che era stato fatto prima, oggi potremmo dire una reazione populista a quella che erano stati i governi precedenti. Forse, comunque, i piemontesi in generale e i canavesani in particolare sono sempre stati molto freddi, ma non solo contro quel fascismo. Cioè il canavesano è molto individualista, è molto bugiannano, non è che si fa coinvolgere molto dalle passioni, né da una parte né dall'altra. E perciò il fascismo è stato vissuto con gente che sicuramente ci credeva, che è stata importante, però non veniva poi molto seguito alla lettera con grande convinzione. Porto solo l'esempio che per esempio noi, una roba con un riscontro scientifico, oggettivo, non per sentito dire, ma proprio riscontrabile, lo vediamo su per esempio le campagne che... La campagna della raccolta dell'oro, fatta dal partito fascista, ecco, in canavese non è che abbia ottenuto un grandissimo successo, se lo paragoniamo con altre cose. Perciò anche questa è una roba che fa riflettere. La campagna, per esempio, di fare molti figli, quello di famiglie numerose, di incrementare le nascite, perché l'Italia aveva bisogno di soldati, il canavese non solo non aderì, ma regredì. Se noi guardiamo, io ho guardato i risultati delle anagrafe di diversi paesi più grandi, Castellamonte, Rivarolo, o niente di quei periodi, ma notiamo che non solo le nascite non sono aumentate, ma sono anche leggermente regredite in confronto agli anni del primo dopoguerra e del successivo. Perciò è anche questo un elemento da considerare e ha il suo significato. Il canavese non è facilmente strumentabile, è abbastanza disilluso, lo credo che anche adesso, che forse è meglio così, per carità. Un legittimo dubbio su tutti bisogna averlo, perché chi non ha dubbi... Vabbè, io affronterei adesso un problema più la resistenza che conosciamo, l'epopea della... Certo, quello che noi conosciamo di più, diciamo. Parlando solo di alcuni aspetti, quelli che ho approfonditi. Perciò non posso essere... Non abbiamo neanche il tempo per farlo. Neanche il tempo. Però l'importante, secondo me, è la genesi di come si sviluppa. Cioè è il periodo iniziale e poi quello finale. E poi quello finale vi spiego perché. Comunque, il periodo iniziale è un periodo che caratterizza un po' il canavese e lo differenzia anche in confronto alle altre zone. E' per questo che va valutato. Il canavese... La prima fase è stata una fase molto spontanea. Una fase molto spontanea, molto disorganizzata. Perché all'8 settembre, quando l'esercito comincia a sbandarsi, quando sappiamo tutti gli eventi che capitano in quella data, non ci sono più ordine, eccetera, i giovani sotto leva, i giovani che erano già sotto le armi, senza ordine, certo, non sanno più cosa fare. Da una parte ci sono i tedeschi che cominciano a rastrellare e ad arrestare i soldati. Dall'altra c'è la possibilità di sfuggire, come? Scappando in montagna, nascondendosi. Perciò la prima adesione che vanno sono questi sbandati, sono questi giovani che per rifiutare la leva e per andare a fare militari, in attesa di tempi migliori, in attesa che i tempi evolvano, perché insomma anche il popolo lo sapeva che gli americani erano già sbarcati, stavano venendo su, la guerra, la sensazione che la guerra stava finendo e finendo in modo tragico per l'Italia ce l'avevano, anche con le poche informazioni che passava il regime. Perciò questo atteggiamento prudenziale di ritirarsi e aspettare quello che capita, perciò centinaia di giovani canavesani prendono la via della montagna, delle prime colline, si sistemano nelle baite, in una baite dove possano vedere il movimento, di solito vanno con l'amico, con il compagno, con il commilitone, gli amici del paese per tenersi uniti, eccetera. Ecco, e però sono completamente, non hanno queste formazioni, queste bande, perché possiamo chiamarle bandi in questo periodo, perché vere bande si trattano, non hanno né un colore politico, né una connotazione militare, niente, sono così. E poi, questo è dovuto, e lo dimostrano anche gli storici, anche il fatto che in canavese non erano presenti grandi concentrazioni del reggio esercito, dove c'erano tanti militari, i militari, molti si sono dati alla macchia, però hanno portato, hanno organizzato, perché erano militari con i loro sottoposti, li hanno tenuti reggimentati, organizzati, poi avevano le armi anche, e avevano la capacità di organizzare anche una resistenza militare. Noi in canavese, purtroppo, avevamo un singolo numero di militari accampati a rapinelli di Cuornieri. Avevamo qualche piccolo distaccamento di alpini su per la Valle dell'Orco. Abbiamo un attimo di stop nel collegamento con Emilio. C'è che non mi si prego, non è tanto. No, è perché io... In canavese. Ok, adesso... Non so come impedire le telefonate. Ah, va bene, capita, dai, va bene. Ma intanto noi ti sentiamo adesso. Sì, sì, ti sentiamo e ti vediamo. L'immagine è ferma... No, no, io non vedo più. Noi ti vediamo con un'immagine ferma, però. Ti vediamo... Forse non mi vedete più. Infatti, perché abbiamo l'immagine ferma. Vedi, dovresti stoppare il video e far ripartire il video. Questo... Vengo subito. Fai, fai. Adesso ci sei, perfetto. Vai pure che ci sei. Vediamo che ne sono le telefonate. Ma sei ricercato nel senso buono, eh. Va bene, dicevo che in questa situazione, no, soffriva la carenza di militari, perciò di preparati. C'erano questi gruppi alla Pinelli, c'erano questi gruppi di genio telegrafisti, molto importante, un'ottantina di persone a Fabria, con un comandante che era Raffaele Morettini, che aderiranno praticamente in massa alla resistenza. E lui diventerà, Raffaele Morettini diventerà un tenente, diventerà uno dei capi delle brigate, dei gruppi partigiani. Questi porteranno via tutto il materiale, le radio e le armi a figlia di Castellamonte, dove si stabiliranno. Purtroppo però qualcuno farà la spia e nel giro di una settimana dovranno scappare e tutto il materiale lo perderanno perché non ha richiuscito. Però il gruppo poi continuerà e si darà da fare. Un'altra mancanza che ci ha penalizzati come canavese era, abbiamo detto che i partiti politici sono stati distrutti, ma sono stati un po' distrutti come da tutte le altre parti. Però in canavese non avevamo delle figure politiche influenti, in grado di sostituire quelle che adesso stavano andandosene via. Avevamo alcuni personaggi, come a Castellamonte c'era il notaio Forma, padre, un grande liberale del periodo precedente al fascismo, c'era l'avvocato Cresto, socialista, c'era un geometra ciberario a Valperga che era comunista e faceva parte dell'organizzazione. C'era un vecchio popolare che era Crestodina, che però aveva conservato gli ideali popolari. C'era soprattutto ad Alpette Battista Goglio, che è una figura emblematica e veramente importante della resistenza canavesana. Perché un uomo che aveva già combattuto il fascismo durante l'avvento, negli anni 20, 21, 22, ha patito ferocemente, sia in termini personali, sia in termini economici, i suoi ideali, non aver abbandonato i suoi ideali e perciò appena si apre la possibilità dell'8 settembre cominciano a darsi da fare, ad armarsi e a formare queste bande che erano già più politicizzate. L'importante era però collegare tutte queste cose. Io vorrei ancora fare una riflessione su questo perché secondo me è molto importante. Perché il periodo che va dal 25 luglio cade il fascismo, l'8 settembre e fino all'inizio del 1944, abbiamo sì le bande partigiane, ma abbiamo cosiddette partigiane, ma abbiamo delle bande dove c'è di tutto. Cioè voi dovete capire che quando centinaia e centinaia di persone sono in montagna, sono nelle colline, devono mangiare, devono mangiare. Erano in tanti, armati pochissimi, qualcuno aveva portato le armi di casa, qualche pistola o qualcosa, e bisogna però procurare mangiare. Nascono così le squadre volanti, che erano quei gruppi di più, o di più che si davano da fare, o che avevano quello sullo stomaco anche, e con le armi che avevano, scendevano il piano e cercavano di portare da mangiare a tutti. Cioè facevano qualche razzia, diciamo così, che era giustificata dal fatto che avevano fame. Bisognava contare sull'aiuto dei contadini, di tutto. E in quei periodi che già non si mangiava in famiglia, certo che quando arrivava Uri ti chiedeva per favore, dacci due galline, e se poi non gliela volevi dare, magari ti puntava anche una pistola, le galline gliela davi, ma non volentieri sicuramente. Poi da aggiungere a questo, che c'erano poi delle bande, che quei partigiani non avevano niente proprio assolutamente che fare, si spacciavano per resistenti, ma erano dei veri e propri delinguenti, e dei veri e propri ladri, e anche assassini qualcuno, che però approfittavano della situazione. Perciò è una situazione molto fluida e equivoca, proprio per la mancanza di disciplina dovuta da una parte da persone militari e dall'altra di persone politiche, di persone che avevano la testa, che sapevano indirezzare nel verso giusto queste cose. È un periodo molto caotico, nel quale era difficile anche per la gente prendere le parti, nel senso che cosa prendevi? Le parti per una banda che ti derubava? Esatto, anche perché squalificava le cose. La gente li vedeva inizialmente veramente come banditi. E in tutte le resistenze, le guerriglie c'è questa fase. Se non è indirizzata politicamente con un ordine, una disciplina, ognuno fa quello che vuole e sappiamo che ci sono di tutti. Io ho scoperto, alla fine della guerra, anticipo quello che poi voglio trattare meglio, hanno fatto i processi, hanno fatto una sezione speciale della Corte d'Assise che ha indagato sui crimini commessi durante la guerra, sia da parte fascista, sia da parte presunti partigiani. E sono venute fuori delle cose incredibili. Ci sono gli atti processuali. Per esempio, ve ne dico solo una. C'erano addirittura due militi fascisti che erano della Guardia Nazionale Repubblicana di Aosta che durante il giorno esercitavano, facevano i militi della Repubblica Sociale e prendevano lo stipendio. Di notte si travestivano da partigiani nelle cascine a requisire la roba. E requisirla e naturalmente requisirla per loro, non certamente per gli altri. Ce ne sono tanti casi di questo genere. Per dire che questo inizio è un inizio caotico, un inizio equivoco, eccetera. Poi però, insomma, già dall'8 settembre, qualcuno inizia a pensare dopo, inizia a pensare che questa gente va governata. E, di fatti, l'inizio ufficiale della Resistenza in Canavese, organizzata, a detta di tutti gli storici, la situano tra i giorni 10 e 12 settembre. Perciò alcuni giorni dopo l'arrivo dell'8 settembre. dove il posto è il Caffè Vernetti di Quornier. Perché in questi giorni, che i testimoni, chi dice il 10, chi dice l'11, comunque non si è conservata memoria, ma c'è la memoria scritta dei partecipanti, al Caffè Vernetti di Quornier si troveranno ben 25 persone organizzate da questi personaggi, chiamiamoli più intellettuali, più acculturati, o che avevano un passato nei partiti. C'erano il Titala, per il Partito Comunista, che aveva tutta una sua storia. C'erano altri, come dei fuoriusciti che erano in Francia e che sono rientrati. C'erano diverse personalità che gettarono le basi di un accordo per poter gestire questa resistenza e indirizzarla nel binario politico e di una lotta contro i tedeschi e per la libertà. La particolarità di questa riunione è stata proprio quella che erano molto variegati. C'erano presenti diversi personaggi che rappresentavano molte cose politiche, molti partiti o idee politiche. Per esempio, ricordato dai Titala, i comunisti, ma poi c'erano dei socialisti, c'erano dei liberali. In questa riunione c'era anche quello che sarà poi il partigiano Casella, che era Giovanni Massucco, Gianni Massucco, il fondatore delle note fabbriche che abbiamo oggi, fonderie o metallurgie che abbiamo in Canavese, che era un liberale, però era di sentimenti democratici e quindi c'era anche lui, organizzerà anche delle brigate, insomma, non con grande successo, però nei primi periodi giocò un ruolo fondamentale. Si racconta anche che nelle sue officine si fabbricavano i fucili, si fabbricavano una specie di stelle copiandolo da quell'inglese, insomma. Certo. Da quella data lì possiamo dire che incomincia l'organizzazione della, almeno in alto Canavese, dell'organizzazione della resistenza armata così come la conosciamo noi. Perché fino adesso, come doveva essere? Perché fino adesso tu ci hai parlato di quella resistenza interessantissima che noi non conoscevamo. Da qui in avanti qualcosa conosciamo, ma conosciamo poco anche noi. Fra l'altro approfitto del fatto che sono intervenuto perché fra quanti ci seguono su Facebook, sono davvero tanti, c'è Remo Maffei, c'è Lidia, mi dicono, aspetta che guardo, vado a vedere perché, voglio vedere, ah c'è Maria Rosa Maffei, c'è Maria Rosa Maffei, che il suo papà, il suo papà che non c'è più, che era Remo Maffei, era uno di quei partigiani, c'è una sua bellissima foto con Amos Messori, Pat Murch, faceva parte di quel gruppo di Ivrea che poi, eh eh, Remo Maffei, ecco, la figlia Maria Rosa ci sta seguendo, ecco, Remo Maffei faceva parte di quel gruppo organizzatissimo che la vigilia di Natale, la vicenda di Elimiro e tutto, fecero saltare il ponte di Ivrea. quindi per dire, ecco, che fra quanti ci seguono, ho salutato Maria Rosa, ho salutato Maria Rosa per salutare con lei tutti quelli che ci stanno seguendo. Saluto, saluto. Va bene. ho conosciuto su Fada. Bene, molto bene. Allora, diciamo, di questa prima fase c'è ancora una cosa da dire, secondo me, secondo me che merita la menzione che è questa. La differenza con altre zone. Cioè, perché mentre noi siamo in questo stato un po' magmatico di formazione, no? In Canaves, divisi da, più che dalle ideologie, divisi dai gruppetti, no? Da singoli gruppetti che hanno come unico obiettivo sfuggire i tedeschi ai ristrellamenti e mangiare tutti i giorni. Hanno solo quello l'obiettivo iniziale, i gruppetti che sono sparsi. Poi c'è chi ci pensa a cominciare a coordinarli, a indirizzarli, a disciplinarli, no? Ma non sarà un lavoro facile. Non sarà un lavoro facile. A differenza di altre zone, per esempio della Val di Lanzo, invece la resistenza diciamo con la R maiuscola, comincia molto prima perché lì erano molto più strutturati, lì c'erano molti militari del quarto corpo d'armata di stanza Venaria che si rifugiano in su. C'era la presenza dei partiti come Partito Comunista, Partito Socialista che erano molto organizzati, le strutture clandestine erano presenti. Perciò diciamo che la resistenza inizia inizia con una certa disciplina. Il Canaverasaro usiamo questa parola che rimane indisciplinato fino alla fine del 43, inizia solo con l'inizio del 43, del 44, nella primavera del 44. Cosa avviene nel frattempo? Nel frattempo avviene che questi personaggi che ho accennato prima si danno da fare per per coordinare questi gruppi e non è facile coordinarli perché anche perché molti non si vogliono far coordinare perché in ogni gruppo prevale dei capi il capo più carismatico, quello che è più coraggio, quello che è più la parlantina più efficace, no? E poi quelli che stanno bene, stanno meglio e stanno male. c'è molto cambio tra uno e l'altro, cioè ci sono sbandati che cercano di andare in un gruppo perché si sta meno peggio o si sta meglio perché c'è più da mangiare, allora ecco che quello che discrimina non è l'appartenenza a un gruppo, l'ideologia o gli obiettivi politici, ma è la pura sopravvivenza. Comunque con grandi sacrifici e lotte interne che adesso non affrontiamo alla fine poi diciamo che col 44 inizia la fase più organizzata, più strutturata, ci sono già le brigate Garibaldi, ci sono le brigate Matteotti, Giustizia e Libertà, mi sembra a febbraio arriva in Canavese anche Duccio Galimberti il quale il quale convince due o tre noti e importanti partigiani che operano qua, che sono Vincenzo Viano, detto Berandi e Gimmi Troglia, anche questo bravo e valoroso partigiano, ad aderire alle brigate giustizia e libertà. Perciò comunque il processo di aggregazione va avanti, anche con delle resistenze e tutto e allora si comincia a porsi degli obiettivi non solo sfuggire i tedeschi ma a fare un'opera di interdizione contro i tedeschi contro i fascisti e tutto da ricordare. Sì, era un'opera che era coordinata con gli alleati in qualche modo secondo te oppure era fatta così? Certo, inizialmente è autonoma quando dico che la riunione di Cornier al Caffè Vernetti avviene in maniera autonoma perché è approvato perché già c'erano dei gruppi che da già il 25 aprile quando accade il fascismo si trovano in casa di uno e degli altri si dicono sa poi fuma perché è normale adesso cadesse tutto è chiaro che uno cerca gli amici e dice oh ma hai visto cosa è capitato quello facciamo e adesso si aprono prospettive cominciano gruppetti poi questi gruppetti uno porta l'amico porta l'altro si scopre che ne esistono altri e si combina questa riunione di 25 persone anche se non sarà una riunione né determinante né niente però si stabiliranno alcune cose primo che bisogna appunto andare verso questi sbandati e organizzarli e secondo lottare per tenere i collegamenti con Italia chiaramente perciò col comitato di liberazione nazionale e coordinare il tutto ecco nel già alla fine di ottobre si forma la Repubblica Sociale e da novembre escono i bandi di arruolamento delle classi 1923 24 e 25 perciò vuol dire che tutti i giovani vengono chiamati i distretti chi non si presenta al distretto è possibile di diserzione e perciò pensiamo anche al dramma di questi giovani che noi non abbiamo avuto la possibilità abbiamo avuto la fortuna di non dover fare quelle scelte perché lì si trattava di fare una scelta o andare e andare a fare il militare con i fascisti o scappare in montagna con tutti gli esiti e rischiare ad essere fucilato perciò è una scelta veramente drammatica chi l'ha fatta e va e va sicuramente capita voglio ricordare ancora che in questo periodo di sbandamento iniziale dove non c'erano le formazioni organizzate dei dei partigiani i partigiani non erano riconosciuti le leggi internazionali di guerra ma non solo italiani ma non perché i fascisti erano cattivi erano feroci lo erano anche ma ma non solo loro c'era una legge internazionale della guerra che dice che se tu trovi un cittadino che non ha una divisa non ha un segno militare non ha un porta un segno di riconoscimento ed è armato si può fucilare all'istante e molti chi veniva preso in quel periodo veniva messo al muro e fucilato come bandito e disertore non c'era non c'erano tante tante ragioni e purtroppo questo questo venne avvenne quando poi sembra una stupidaggine quella che hai detto ma era una cosa organizzativamente molto importante perché se non ho una divisa sono un bandito per legge internazionale non per volontà certo e nessuno poteva anche dopo nessuno poteva neanche dirti ma no hanno ucciso e poi lo vediamo voglio finire con questo perché secondo me mi ha aperto anche certi spiragli a me a me stesso la mentalità che avevo un po' che può modificata e tutto perciò come c'era il diritto di rappresaglia il diritto di rappresaglia noi celebriamo certo i tedeschi hanno bruciato feletto hanno bruciato le case se in una cascina dava ospitalità dei partigiani veniva bruciata ma questo faceva parte del diritto di rappresaglia che hanno applicato tutti e che hanno applicato gli italiani noi italiani in guerra nei Balcani o in Grecia o tutto ne abbiamo combinate forse più dei tedeschi perciò guardiamoci dal questo era una legge spietata ma era così diverso poi quando nel 44 si organizzano bene le brigate brigata Matteotti brigata brigata Garibaldi gli autonomi eccetera c'è il comitato di liberazione nazionale c'è il coordinamento con gli alleati questo è anche importante il coordinamento con gli alleati gli alleati hanno danno il riconoscimento ufficiale dal comitato di liberazione nazionale e quindi agli aderenti il partigiano che lotta sotto queste brigate è sottoposto a tutta una disciplina però ha il vantaggio che ha equiparato a un combattente a un combattente quindi se anche viene arrestato non deve essere non può essere fucilato non può essere ma poi deve essere imprigionato se viene raccolto ferito in uno scontro fuoco deve essere curato deve essere portato in un ospedale curato e poi imprigionato e poi se ha fatto delle cose può anche essere in qualche caso fucilato ma c'è tutta una cosa è data è data a quel punto che i partigiani quelli veri io parlo perché poi anche qua bisogna spendere due parole per dire la verità adesso oramai la possiamo anche dire che c'erano i partigiani veri c'era anche qualche banda di delinquente che agiva in proprio ma questo lo vediamo adesso con il coronavirus c'è chi contrabbanda le mascherine o questo figurati in tempo di guerra c'era qualcuno che con la scusa di fare il partigiano faceva quel che voleva ma questo è un altro discorso che non bisogna confondere il partigiano vero aveva una divisa quantomeno raffazzonata ma riconoscibile di fatti generalmente portava il fazzoletto o il fazzoletto rosso o il fazzoletto azzurro eccetera o al braccio o a lì e poi aveva il tesserino militare aveva il tesserino che si diceva quale brigata faceva parte ecco con quelle cose era era una garanzia non sicuramente perché poi in realtà è stata rispettata poco questa cosa cioè i fascisti tedeschi non è che andavano molto per il sottile e se avevi un tesserino in tasca non ti sparavano ne hanno sparati tantissimi però alcuni casi dopo la guerra sono stati perseguiti per questo e sono stati anche imprigionati addirittura condannati a morte per aver trasgredito queste cose comunque riprendiamo il filo che è questo vado velocemente in primavera naturalmente si comincia già a fare delle azioni quelle che suggeriscono di disturbo il comitato di diversione azionale perché il valore della resistenza era era quello tipico della guerriglia di disturbo di colpisci e scappa di mordi e fuggi perché per questo per dare fastidio alle truppe che c'erano qua creare un problema e tanto è vero che divisioni intere divisioni tedesche sono state levate dal fronte per reprimere o per contenere la resistenza delle nostre valli e quelle truppe che sono state levate dal fronte sono state levate grazie ai partigiani grazie alle iniziative che facevano capisci? e allora questo è il valore poi della resistenza che alla fine ci ha permesso di sedersi anche fra i vincitori o almeno di di patire meno le sanzioni che comunque ci hanno dato per aver fatto qualche bella alleanza con i nazifascisti perciò insomma intere divisioni combattono insieme ai fascisti insieme al decima mass repubblica sociale e poi sono presenti in canavese quei reparti che ne parlevamo l'altra volta tipo Valanga Monterosa Sagittario erano tutti reparti di soldati italiani raffazzonati recuperati nei campi di concentramento e qui dobbiamo due parole l'abbiamo già detto l'altra volta ma dobbiamo rendere merito a tutti i nostri centinaia di migliaia di soldati catturati dai tedeschi portati nei campi di concentramento e nonostante gli allettamenti le promesse fatte dai fascisti dei tedeschi non aderirono alla repubblica sociale non si arruolarono nei loro reparti e questo ha fatto sì che rimanessero da su a patire la fame ma non sono qua i Monterosa erano persone invece che avevano aderito avevano aderito anche qua spintaneamente perché se poi andiamo a vedere i singoli casi troviamo dei casi anche patetici e io questi li ho trovati cioè quando dopo la guerra gli chiedono a uno durante un processo ma tu sei andato nella Monterosa ma perché sei andato mi ha detto perché mi hanno preso i tedeschi mi hanno dato l'alternativa o ti arruoli e stai qua in Italia e ti paghiamo anche o te ne vai o te ne vai prigionieri in Germania e lui diceva io ho la famiglia e due figli ho fatto quella scelta lì e dagli torto anche non siamo tutti degli eroi perciò molti erano stati anche costretti infatti molti poi abbandoneranno anche scapperanno quei partigiani cioè per dire era una cosa diversa invece erano le brigate le camicie nere la decima mars la guardia nazionale repubblicana che erano avevano una motivazione ideologica molto molto forte e quindi avevano fatto una scelta di campo proprio quindi per l'ora era una scelta quella era era una scelta non so fino a che punto ideologica però anche su questo c'è da dire una cosa il mio amico Lino Fogliasso un giorno mi ha regalato perché era riferito Castellamonte mi ha regalato un foglio una busta paga di un milite della decima mars distanza Castellamonte era proprio distanza Castellamonte c'era il comandante e per questo che me l'ha regalato e dire tien la ticket Castellamonte comunque in questa busta paga no c'è una cifra indennità e tutto non solo di tutto rispetto ma che fa adrizzare i capelli perché per esempio confrontandolo con un operaio della conceria di Castellamonte o della manifattura di Ponte erano quasi più del doppio era più del doppio di quello che guadagnava un operaio perciò sì ci sarà stato anche la forzatura ci sarà stata anche l'ideologia e tutto però c'era anche l'interesse economico perché comunque erano stipendiati e bene oltre a tutti i benefici che avevano di razzia di comodità perché un conto era stare scappare da una baita all'altra durante l'inverno l'inverno un conto stare caldo in una caserma in paesi il fondo valle perciò insomma comunque sicuramente c'erano le persone cui va deve andare il nostro rispetto rispetto se non altro se non altro di fedeltà a un ideale sbagliato finché si vuole non condivisibile però le persone ci sono sempre queste persone che meritano la considerazione se non altro certo poi nessuno riscrive la storia però insomma un po' come nel confronto politico noi abbiamo un confronto politico oggi fatto di insulti sarebbe meglio fosse fatto di confronto di idee diverse ognuno ha la sua ed è giusto che si rispettino tutte poi chiaro che quando ci sono i morti in mezzo è un po' più difficile c'è un'altra data che voglio ricordare che è importante che è questa vabbè intanto una delle zone più organizzate più efficaci e più militarmente che vale comunque una valenza forte era la zona di Corio Pianaudi dove si stabilirà proprio il comando delle brigate galibaldi organizzate insomma sopporteranno diversi attacchi da parte dei tedeschi insomma lì si faceva la guerra quasi la guerra e la fecero con onore e con grandi e parte anche del canavese perché è un po' cavallo a metà invece noi abbiamo abbiamo una data importante è la primavera del 44 quando i cecoslovachi cioè perché penso che sappiamo perché c'erano truppe delle truppe organizzate cecoslovacche che avevano combattuto con i tedeschi e combattevano con i tedeschi armati di tutto punto armamento pesante disciplina comandante sottoposti soldati a un certo punto perché anche in Germania con l'avanzata dell'armata rossa la cecoslovacchia si stava livellando e tutto cambiano fronte e passano con i partigiani lasciano i tedeschi e si alleano con i partigiani ecco l'apporto di questi di questi personaggi di queste l'adesione di questi reparti che sono ripeto strutturati bene militarmente disciplinati e tutto sarà una cosa che darà un salto di qualità alla alla guerriglia dei partigiani nostrali perché saranno la gente che teneva la posizione la gente che sapeva combattere per esempio nella battaglia di Ceresole la battaglia di Ceresole le forze partigiane con l'aiuto dei cecoslovacchi e di altri slavi che erano passati tenero per ben più di una settimana la postazione e pensate che nella battaglia di Ceresole furono impiegati migliaia di di soldati di fascisti tra i quali c'era il ministro Pavolini capo del fascismo che fu ferito fra l'altro nel sedere comunque fu ferito e Giulio Valerio Borghese comandante della decimia ma ferito anche lui cioè se due personaggi del genere vengano arrivano su con le truppe fasciste e tedesche soprattutto armate di truppe corazzate perciò con carri armati e autoblinde e armamento pesante e proprio lì nella battaglia di Ceresole sarà una battaglia che per noi canavesani è ricordata come una delle battaglie più importanti cito ultimamente è uscito un bel libro di Clara della Coda che non mi ricordo il nome ma ce l'ho lì sulla punta della lingua Claretta che la conosco benissima la saluta ecco Clara Coda che ha fatto un bellissimo libro pubblicato dal Corsa che descrive proprio nei minimi particolari la battaglia di Ceresole e chi vuole ma prendere comunque questo è una bella pagina nostra insomma poi volevo ancora dire che nel frattempo sempre quel periodo lì anzi a fine del 43 scapperanno anche i prigionieri subito quasi subito a ottobre scappano i prigionieri che sono nel campo 112 di Castellamonte prigionieri inglesi si disperderanno nelle colline e verranno aiutati e qui si vede anche l'ospitalità la generosità dei contadini italiani che non erano non italiani canavesani in questo caso che non erano tutti quelli che si lamentavano che gli prendevano la gallina la mucca eccetera ma c'era anche questi contadini soprattutto delle borgate di figlia di collereto di borgiallo che ospitarono questi questi prigionieri li ospitarono in casa a prezzo di rischiando la fucilazione e rifiutando il bando che dava 4.000 lire e 10 kg di sale a chi glieli faceva trovare ecco a parte qualche spia pochissimi ma veramente il numero di una mano tutti li tenero in casa e poi questi inglesi saranno quelli che si incamminarono verso la Galisia e che ci sarà la tragedia famosa perché gran parte di loro non riuscirono a passare e morirono poi sotto la valanga però volevano raggiungere la Francia per raggiungere la Francia perché c'erano già gli inglesi però questa è una bella pagina una bella pagina che rende onore ai nostri contadini costadini che lì si trattava veramente di rischiare la vita e tutto bene allora diamo ancora un po' di tempo vado ancora avanti perché devo finire abbiamo ancora un po' di tempo e mi piaceva sapere qualcosa perché tu ci hai spiegato come è partita la resistenza molto prima della guerra come si è sviluppata in modo spontaneo casereccio e anche molto disorganizzato come si è organizzata sappiamo bene o male come è andata a finire però non è finita proprio il 25 aprile che tu non è finita il 25 aprile cerco di arrivarci velocemente praticamente abbiamo detto che l'inizio in primavera del 44 le cose si fanno serie per esempio nel 44 nasce anche una brigata autonoma inizialmente autonoma importante per il canavese perché comunque agirà e sarà importante per gli interventi militari in canavese che è la brigata autonoma di Piero Piero che tutti sappiamo essere personaggio un po' controverso criticato per certi aspetti però un personaggio di cui non si può tresingere c'è un personaggio comunque che la storia l'ha fatta un personaggio che ha combattuto ed ha detta ha detta dei suoi dei suoi così dei suoi seguaci era uno che non si tirava indietro era una persona che che combatteva con con loro era era severo spietato magari se vogliamo però non gli mancava il coraggio l'ardimento eccetera ai primi di ai primi di verso aprile comincia a formare la sua brigata a cui a cui aderiranno una maniera incredibile di giovani perché perché era il tipico capo carismatico era un bel ragazzo magari bullo un po' ma sapeva attrarre sapeva e poi questa sua temerarietà era temerario veramente e al che era o amato o odiato non c'erano mezze misure per 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 io io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche grazie a Alino Fogliasso e Eugenio Bozzello e l'ho frequentato un po' negli ultimi tempi prima prima che morisse io come l'ho conosciuto io non posso che dire che era un signore nel senso che io l'ho conosciuto come un vecchietto sempre elegantissimo educato parlava con con ponderazione devo dire dei bei ricordi per quanto riguarda questa cosa qua e devo dire che e l'ho convinto a rilasciarci dell'intervista no? e sarà un po' per la simpatia che abbiamo abbiamo instaurato fra le i pranzi che quando riveniva in Canavese ci invitava sempre venite andiamo su o si mangiava al Valentino o alla storia di Quarnier insomma era tutta l'occasione era per invitarci per raccontarci qualcosa anche io gli dissi tiriamo fuori la telecamera facciamoci e lui una intervista beh e lui accettò e difatti io tengo come un tesoro io e sempre il professor Perotti che l'abbiamo fatto insieme teniamo più di due o tre ore di confessioni diciamo di un vecchietto di 80 e più anni che però raccontava la sua verità che non ha detto che sia la verità però raccontava la sua verità ed è giusto che anche lui abbia raccontato la sua verità ma certo sono niente di niente di sconvolgente no no però anche il lavoro che avete fatto voi che avete fatto che state ancora facendo va proprio in quella direzione di raccogliere quella storia che raccontano quelli che l'hanno fatta poi la raccontano dal loro punto di vista ovviamente ognuno ognuno peraltro ehm eh se parliamo di Piero Piero no eh è quel comandante partigiano che Bozzello ricorda eh perché era eh la sua formazione quello che Bozzello ai tempi di studente eh captò eh quella notizia che avrebbero rastrellato la zona e che in bicicletta portò il foglietto che aveva fatto fino a Piero Piero cosa che poi Piero Piero raccontò e mise nel suo libro un po' a sorpresa quindi insomma ci sono tutti questi intrecci no di di piccole storie piccole storie che però poi alla fine fanno la gravità sì alle volte bastava un ragazzo come era come era lui per per salvare anche tante altre vite perché se la si è avvertito ha dato tempo di poter allontanarsi insomma è stata una una cosa che anche è stato bello che un ragazzo così giovane abbia avuto questa presenza di spirito anche questa questa volontà e questa di prendersi questa questa avventura e questo e questo impegno io volevo ancora dire una cosa su ne avrei tantissime cose da dire su Piero Piero ma naturalmente avere risparmio perché non c'è il tempo però guardate che è stata una cosa molto molto formativa anche per me che mi ha fatto mi ha fatto molto pensare io ripeto un conto sono i racconti io tante volte pensavo sapevo anche tutte le critiche che aveva ricevute però e l'incalzavo anche con le domande su questi aspetti no e devo dire che però lui ha sempre risposto serenamente ha sempre risposto dando la sua interpretazione che dando la sua interpretazione ma dandola non sottraendosi anzi dimostrando in certi in certi momenti anche dell'autocritica facendo anche dell'autocritica verso cose che ne aveva fatto però ti faceva anche riflettere perché diceva diceva mi diceva guarda lo sai che io avevo 22 anni e avevo sotto di me aveva raggiunto non so non voglio dire spropone ma tra 4.000 il suo gruppo era di media era tantissimo diceva ma cosa credi io di 22 anni se non facevo come facevo mi facevano fuori subito ha detto ma lo sai che quando siamo andati a liberare a liberare dei nostri compagni alle nuove io sono andato siamo andati dentro abbiamo aperto tutte le celle stavo mica lì a guardare tu sei un partigiano fuori tu sei un delinquente non stai lì tu sei stato con un assassino stai dentro ha detto noi siamo arrivati abbiamo liberato tutti e tutti fuori e tutta questa gente me la sono portata in montagna e diceva io tra di con me avevo dei fiori di assassini che mi avrebbero sgozzato vivo se non mantenevo capisci mantenevo l'ordine e tutto e anche questo fa pensare erano tempi difficili 22 anni e poi era difficile anche pensare di chi fidarsi allora perché con tanta gente così sai e lui era spietato e lo dice lui dice guarda io ho iniziato a fare in un altro genere di banda no? lo ricorda lì ero in un'altra banda a Torino che facevamo altre cose no? poi un giorno abbiamo bisticciato con dei tedeschi per questioni di in una palera e io sono andato e gli ho dato fuoco alla macchina dei tedeschi da allora mi hanno mi hanno puntato e ho dovuto scappare e ha dovuto scappare anche lui in montagna e ha dovuto fare ha fatto un partigiano no? e poi l'ha fatto anche militarmente bene perché militarmente l'ha fatto l'ha fatto bene perché lui quando quando faceva ce li portava a compimento le cose non sparava due colpi e poi magari scappava certo lui è uno di quelli che l'ha combattuto è controverso è controverso in tante cose ma sono molti personaggi controversi però sai come diciamo sempre noi e tu lo sai benissimo noi dobbiamo raccontare pagine di storia metterle lì perché poi una dietro l'altra chi le legge si fa la sua opinione viviamo in un periodo in cui ci passano tante opinioni e pochi fatti noi cerchiamo come hai fatto tu oggi giustamente di raccontare i fatti così come sono stati poi le opinioni ognuno ovviamente cercando anche cercando anche di comprendere comprendere le ragioni del momento cercando anche di comprendere le persone ma da ambo le parti io qualche volta mi immedesimo anche dall'altra parte mi chiedo penso che ti sarei chiesto anche tu se ci fossimo stati noi a dover fare quella scelta per andare da una parte dalla quale avremmo scelta adesso non avrai dubbi perché lo so come va a finire ma allora era una scelta certo ma non solo tu l'hai detto molto bene prima e noi lo ricordiamo anche sempre noi oggi parliamo parlando di pagine di storia allora la situazione che si viveva era molto diversa la sensazione che si aveva del periodo che si viveva era molto diversa e allora si faceva quello che in quel momento ti sembrava la cosa migliore per te perché poi non c'erano questi grandissimi ideali quindi ognuno alla fine tu dici Piero Piero alla fine ha fatto il partigiano combattendo in modo molto efficace perché ha litigato con i tedeschi e non poteva far diversamente non avesse litigato magari avrebbe fatto tutt'altra strada quindi a volte erano piccole scelte che hanno poi determinato il futuro di molte persone quando era criticabile era perché lui voleva mantenere fino alla quasi alla fine del 44 mantiene sempre la sua autonomia nel senso che se il comitato di liberazione nazionale gli diceva vai a saltare la caserma di di Castellamonte o di Rivarolo lui e lo dice lui nell'intervista ha detto ah io mi davano quell'ordine lì e io ci facevo due conti se mi conveniva andavo se non conveniva non ci andavo capisci lui faceva che non è giusto di fatti e lo racconta anche lui c'è stato un periodo che le brigate Garibaldi nell'astigiano condannarono erano morte perché era considerato un battitore libero come si dice però poi poi capì anche capì che doveva mettersi le spalle a posto infatti organizzò le brigate Matteotti e si comportò bene diciamo certo per noi come dici tu che conosciamo tutto adesso era facile allora prendere una posizione era difficile allora era difficile capire come sarebbe andata a finire e un po' bisognava anche mettersi il sedere al caldo perché sai c'era anche chi aveva famiglia c'era chi aveva ecco la campagna c'era insomma chi cercava di fare le cose per sopravvivere aspettando che arrivassero gli americani che poi non si sapeva neanche come sarebbe stato se degli americani saresti stato alleato o prigioniero perché poi ci sarebbe tutta quella storia da raccontare di chi io ne ho sentite di storie di chi ha fatto il partigiano e poi quando sono arrivati ci ha detto adesso depositate le armi questi cosa ci mettono in galera adesso perché insomma ma ancora una cosa vorrei dire che mi ha fatto molto pensare su un tragico evento uno di più di quelli che accusano di più Piero Piero è stato accusato tante volte di essere appunto abbastanza spietato nei confronti di chi catturava lui diceva sempre che quando gli portavano uno che aveva fatto qualcosa lui ascoltava e poi faceva col dito e diceva battaglione San Piero cioè mandatelo al battaglione San Pietro il battaglione San Pietro voleva dire fucilatelo e una cosa che di fatti gli abbiamo fatto questa domanda proprio per vedere come reagiva una delle cose che era accusato era appunto di aver fucilato una ragazza di 17 anni perché aveva fatto la spia aveva fatto la spia e aveva fatto catturare e uccidere tre ragazzi lei l'ha fatto involontariamente perché passando questi tre ragazzi avevano una macchina ferma si è fermata la macchina al concessionario Pagliero entrano dentro per farsela guardare lei passa con la bicicletta vede tre partigiani lì e poi si incontra con il suo fidanzato che era un fidanzato era una delle brigate nere e gli racconta ma magari così spontaneamente dice ma sai c'erano tre partigiani laggiù allora che l'altro va su dall'allarme arrivano giù con un camion li circondano e li catturano li uccidono no avevano tutti ce n'erano uno di 17 anni 18 20 anni anche loro erano giovanissimi no c'è una roba veramente tragica ed erano di Piero Piero al che cosa succede lui nei giorni seguenti fa un'indagine perché vuole capire chi è che ha fatto la spia e riesce a arrivare a questa ragazza che era una povera ragazza ripeto di Pettolino di Baldissero l'arrestano la interrogano e lei ammette ammette che ha fatto questa cosa ha fatto questa spia no allora e lui è l'unica volta che l'ho visto veramente addolorato addolorato e non sicuro di sé lui lui ripeteva se fosse adesso non farai mai più una roba del genere ho capito ho sbagliato è stata una cosa però però diceva diceva c'era uno c'era la legge che chi faceva la spia doveva essere passato per le armi e questa era proprio una legge uguale come il diritto di rappresaria c'era che se i partigiani scoprivano uno che faceva la spia e che faceva uccidere ha fatto uccidere uno di loro c'era un breve processo e la fucidazione perciò non c'era problema la ragazza certamente era un caso un po' più diverso e lui diceva e io ho deciso ma sai perché ho deciso? ha detto ho deciso di farlo e sai perché ho deciso con un grande sanguinamento del cuore? ho deciso perché dall'altra camera diceva c'erano tre famiglie che piangevano tre ragazzi come lei capisci? diceva un'altra famiglia c'era i tre morti avevano di 17-20 anni erano ragazzi come lei ecco il dramma della guerra questo era un dramma della guerra civile e lui diceva io avevo avevo quelle famiglie là che urlavano che volevano ammazzarla con le sue mani con le loro mani e di qua avevo sta poveretta e tutto e cosa fare? purtroppo scelse quella cosa che lui diceva non lo farei mai più ma sai poi che non è certamente edificante non è una cosa che deve mandarsi no però sai non lo faresti più adesso io aggiungerei una cosa che quando i tuoi uomini ti trovano debole e come dici tu hai migliaia di uomini sotto di te e alcuni sono anche dei delinquenti allora ti dicono siccome una ragazza non la mandi a morte e ti trovano debole tu hai finito di avere l'autorità e quando diciamo che la guerra è brutta questo episodio che tu ci hai raccontato in chiusura di questo incontro ci dà l'immagine di quanto sia brutta la guerra cioè di quanto la guerra non porti bene a nessuno indipendentemente e soprattutto una guerra civile una guerra civile forse è ancora peggio di tutte le altre comunque poi arriviamo con parti vicende arriviamo alla liberazione come si sa il canadese non fu liberato il 25 aprile ma il 25 aprile ci fu l'insurrezione nazionale a Torino e guarda caso qui i primi Piero Piero andò a Torino no? e il primo autoplinda con il primo americano sopra c'era Piero Piero vicino cioè per dirti il personaggio dove era il vicino no? certo e quando entra lui va incontro gli americani e riesce a salire insieme il comandante americano e fare l'ingresso triunfare a Torino so perché ci sono le foto cioè per dire era poi lui stesso diceva ma io ero matto ero ero un delinquente aveva queste cose lui dice io quando ho fatto le liberazioni di Torino ho telefonato all'hotel all'hotel ambasciatori e ho detto preparatemi l'acqua voglio la stanza che andava a Mussolini preparatemi il bagno caldo perché voglio fare il bagno sono uovi vengo lì faccio una strada cioè per dire il tipo il personaggio il personaggio certo sì sì è certo che un personaggio così non può che essere divisivo perciò ha lasciato dei brutti ricordi in canavese degli strascici però bisogna dargli atto quello che Castellamonte ha tenuto la piazza insomma è la guerra diciamo sempre è uno dei personaggi della guerra i grandi personaggi della guerra ma adesso non dobbiamo scomodare la storia ma da Napoleone Bonaparte Carlo Magno ai faraoni insomma tutti i grandi personaggi bene o male hanno i loro pro i loro contro e sono stati come dicevi tu o amati o odiate solo i mediocri piacciono a tutti ecco certo un'ultimissima cosa ma proprio rapida anche se magari se c'è la possibilità un'altra volta di parlarne una ricerca che ho incominciato a fare già da anni grazie anche alla collaborazione di un bravo compagno di Ivrea che risponde al nome di Renzo Sartor che se mi sente lo saluto era di recuperare allora voi sapete che è finita la liberazione tutti scendono giù dalle montagne no? i primi giorni succedono delle cose inumane se vogliamo possiamo dirlo no? ecco perché anche gli americani dicono due giorni di libertà liberi tutti fate quello che volete e purtroppo di fare quello che volete c'è qualcuno che aveva dei conti da saldare aveva tanti conti da saldare c'era qualcuno che aveva perso gli avevano ucciso il padre gli avevano ucciso i fratelli anche robe vecchie dal 1922 capisci? e i conti e i conti si sono saldati un po' un po' malamente tanto è vero che poi prima la polizia partigiana non riusciva neanche impedirlo perché erano talmente l'euforia il disordine che non riuscivano a contenerli tutti perché poi facevano quel che volevano no? si racconta che per esempio a Cornier uno che anni prima aveva avuto l'olio di ricino aveva imbottigliato quello che gli era uscito e l'aveva tenuto per il 25 aprile che poi gliel'ha fatto bere a chi glielo ha dato ma sono un po' leggende metropolitane anche brutte però succedeva anche questo allora per impedire questo cosa fanno? fanno una un tribunale speciale una sezione speciale del della del come si chiama del del tribunale di Torino del tribunale di Torino la corte di Cassazione la corte di Cassazione speciale per i crimini di guerra in questa corte esaminano tutti i fatti di sangue che sono avvenuti o le denunce che la gente ha presentato e hanno ricostruito tante storie di uccisioni di partigiani la maggioranza e anche di qualche partigiano che se ne ha approfittato tutti questi incartamenti questi processi ce n'è una pila una pila così che io le ho recuperati e sto studiandoli ma c'è delle cose interessantissime interessantissime perché vengono ricostruiti certi certi fatti proprio per filo e per segno con i testimoni con tutto e perciò è una fonte veramente importante di storia che ti fa riflettere e ti fa capire di capire tante cose ma credo che sia giusto parlarne un'altra volta anche questa è la storia però anche questa è la storia che bisognerebbe conoscere perché altrimenti sì perché questo non se ne parla non se ne è mai parlato se tu noti il periodo 45-47 la storia locale non ne parla siamo un po' in chiusura Emilio abbiamo parlato un po' di questo periodo della resistenza prendendolo molto alla lontana e arrivando fino a un capitolo che stai ancora studiando magari troviamo poi l'occasione per capire abbiamo detto che dovremmo studiare meglio il fascismo per capire cosa è stato e forse dovremmo studiare anche che cosa è successo dopo il 25 aprile magari per capire che cosa è successo dopo e che cosa sta ancora succedendo sì io credo che è una cosa che va fatta le possibilità documentali ci sono ci va solo tanto tanto lavoro per analizzarle per riordinarle ma è un periodo veramente che poi caratterizzerà anche tutta l'Italia perché per esempio tutti i processi che verranno intentati contro contro gli autori di crimini di cose varie andranno tutti a finire in questa maniera io ho solo quelli della corte di Assise di Ibrea generalmente la procedura era questa riconosciuti colpevoli condannati a morte poi però c'era tre gradi di giudizio poi il condannato morto faceva ricorso alla Cassazione di Torino veniva condannato a 30 anni intanto aveva salva la vita dopodiché a ottobre l'amnistia Togliatti che fece l'amnistia a tutti destra sinistra e tutti e uscirono tutti e così in quella maniera ci sono dei casi veramente gravi dei casi che hanno fatto uccidere diverse persone se la sono se la sono squagliata con niente con pochi mesi di prigione molti sono andati all'estero scappati in Argentina cose varie ecco questa è una pagina un po' vergognosa nostra perché guardate che in Germania la denazificazione del paese avvenne ma molto più rigidamente e con molta più severità che da noi negli anni 50 nella Repubblica federale tedesca c'erano ancora migliaia di detenuti nazisti noi non avevamo più nessuno noi e questo la scelta la la scelta fatta di la ministria Togliatti di pacificare il paese liberando tutti ha cancellato però pagine di storia che forse adesso bisognerebbe recuperarle perché la gente poi si è dimenticato di quello sì bisognava conciliare anche perché noi non avevamo i funzionari di riserva noi per far ripartire lo Stato avevamo bisogno dei vecchi funzionari fascisti che c'erano non potevi non ne avevi uno da sostituirlo e allora bisognava riciclare tutti bisognava fare una frettata una frettata pacificazione che poi pacificazione non è stata perché una vera pacificazione doveva trovare dei valori condivisi fra tutti invece ha preso delle pieghe diverse l'abbiamo trattata l'altra volta con Diego questa vicenda certo e sappiamo come è andata a finire va bene io ti ringrazio io ti ringrazio io ringrazio te ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e qualcuno se ne è già dato e l'appuntamento con i nostri incontri è per il 24 per quanto riguarda l'avvicinamento il 25 aprile abbiamo però il 23 un incontro particolare che è quello con cui ricordiamo forma ma lo ricordiamo con il Stefano Andreotti figlio di Giulio Andreotti perché ricordiamo anche i 101 anni ormai dalla nascita di Andreotti però ricordiamo forma che fu sottosegretario alla presidenza del consiglio sotto il governo Andreotti quindi avremo domani il 23 l'incontro con domani quindi l'incontro con Stefano Andreotti e il 24 l'ultimo incontro in attesa del 25 aprile vi ringrazio davvero tutti per essere stati con noi grazie mille va bene ciao ciao ciao